Nessuno può dire che in questa legislatura il PD non ci abbia provato. Poi si possono discutere i modi, le cose, però... Per quanto riguarda l'ILVA, ovviamente io penso che abbia ragione il Governo, ci mancherebbe. Mi sono rivolto qualche giorno fa in modo assolutamente istituzionale e rispettoso al Presidente della Regione Puglia e al Sindaco di Taranto. Confidavo nel Natale. Mi auguro che questo appello, questa preghiera assieme alle diverse proposte che il Ministro Calenda e i suoi collaboratori hanno messo sul tavolo aiuti a sbloccare questa situazione. Penso che sappiamo... è una cosa enorme. Cioè stiamo parlando di 14.000 posti di lavoro e stiamo parlando di miliardi di investimenti per la bonifica ambientale di una delle aree più inquinate del Paese. Quindi tutto possiamo fare tranne che, a mio avviso, mandare in fumo 14.000 posti di lavoro e miliardi per le bonifiche ambientali di una delle zone più inquinate del nostro Paese. Quindi la mia richiesta, e approfitto per rinnovarla con rinnovato rispetto istituzionale, perché la leale collaborazione tra istituzioni non è una scelta, è un dovere per tutti noi, è di ritirare il ricorso per evitare che la situazione arrivi a dei punti di crisi che sarebbero gravissimi in termini occupazionali e ambientali. Nel frattempo noi facciamo tutti gli sforzi possibili e immaginabili per andare incontro alle richieste di quei territori che sono sacrosante. Però la base per poter rispondere a queste richieste è di avere una speranza per questa bonifica e per questo mondo del lavoro. Se la speranza viene cancellata, ma io sono certo che troveremo una via di uscita.